Allora, con Fabio Meloni, il patron dei Delfini 74 che hanno vinto la Coppa, un tuo giudizio su questa partita, una vittoria abbastanza schiacciante. Dominata, dominata dall'inizio alla fine. Questi ragazzi sono bravissimi e speriamo anche nel campionato, vogliamo vincere anche quello. Allora, appunto, dopo la Coppa, insomma, già il primo trofeo in Bacheca quest'anno, i prossimi vostri appuntamenti. Vinciamo il campionato e poi, che torneo è quell'altro? L'Europa League. L'Europa League. Ma volete fare il triplete? È chiaro. Senti, un giudizio più sulla partita, proprio uno specifico, dove pensi che sia stato il punto? No, livello superiore, senza ombra di dubbio. Punto di vista difensivo, insomma? No, non c'è partita. Bene, grazie mille.